ciao a tutti oggi il 30 ottobre ci avviciniamo ad halloween quindi oggi siamo a Pratis halloween e quindi devo interrogare la mia zucca 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 delle mie brame dov'è il fungo più bello del reame? Pratis halloween! bene andiamo a cercarlo allora intanto qua è già fungo game ma poi non è finita perché secondo voi questo monte è rotto ma poi la zucca non mente dove ho lasciato il mio bastone ah l'ho lasciato seguitemi perché la zucca non mente signori signori qua abbiamo un leggero un leggero Pratis halloween la zucca non delude ciao a tutti